Comunque non è una cazzata, ma secondo me il primo era meglio del secondo di SpongeBob. Perché? Perché era più, come hai detto tu l'altra volta, più psichedelico. Ma ammazza più psichedelico di questo! Sì, però, secondo me... Cioè, il viaggio nel tempo, il delfino Dio, il cervello di SpongeBob. Sì, però c'erano anche trovate nel primo, tipo tutto il pezzo con la canzone metal. Sì. La canzone metal era notevole. Il cameo di... David Hasselhoff. Ah, è vero. E qua chi c'è? Banderas. Ma il banderas è più alto. Pensa. Po, con due davvero. Dei supposi a SpongeBob. Lo me ne sono minimamente reso conto che era il banderas. Però vedi, se non me ne sono reso conto io che sono uomo medio amante del trash, no? Che era il banderas. Cioè, che non c'era la gallina. Ormai, sì, ormai il banderas è come Del Piero con l'uccello. Senza uccellino sulla spalla non capisci che è Del Piero. Comunque su Amazon a 20 dollari c'è la cintura di sicurezza di Giubbacca. Cioè, è stata con i peli di Giubbacca praticamente. Tutto peloso? Tutto peloso. Sai che se io mi tolgo il maglione? Sembo si becca. Non è vero, dai. Potresti, potresti. Vuoi vedere? Eh, vuoi vedere qua. Mi state distraendo? Io devo fare il domino un po'. Nazza. Potresti far tappetino per il nostro malo? Esatto. Io stavo pensando dietro la schiena, che sto pelato tanto quanto, di farmi tipo incide qualcosa. Cioè, mi faccio radere i peli in modo che ne lascio un po' che... Però si scrive meglio il primo del secondo di Sponge, ma pure il secondo dice il fatto suo. Quello te. Io invece scriverei a me, a me in virgola invece, virgola, sono piaciuti tutti e due allo stesso identico modo. Per me ci può stare, anche perché comunque penserebbe anche velo, perché ne so, a mettere una firma, un'altra cosa. Una firma, sì, oppure mi trapianto in testa. Il trapianto dei capelli è sempre buono, soprattutto quando devi vedere la schiena. Tu stai pensando al tatuaggio con i peli, Francesca? No, io mi faccio la ceretta, normalmente, i peli mi fanno... Sai che la ceretta sulle gambe è fuori moda? C'è proprio tutto un momento. Sì, ma è vero, c'è veramente... C'è tutto un momento. Come voi che accarezzate la vostra ragazza e poi incontrate questa distesa... Devi fare la gincana, devi fare il nurpuring, dai. Se tu ti rilasci crescere, sono morbidi, come se fosse un gatto. Ma che crescere? Che vuol dire? Grazie, pure se ti faccio crescere la barba è morbida. Esatto, senti qua. Sì, ho capito, ma non vorrei avere come compagna veramente un jedi. Cioè, un jedi. Ma sei morbido, un micio. Come si chiama quello alla voi peli? È Chubekka, un jedi. No, Chubekka è un jedi. No, è Chubekka. VVZella, che è? VVZella, un VVZella. Vabbè, dai, rientriamo. No, perciò.